Fa discutere la scelta di Kate Middleton. La principessa del Galles ha copiato la compianta Lady Diana? Non è un mistero che Kate Middleton, principessa del Galles e consorte di William si sia ispirata sin dalla sua giovinezza Lady D Lo charme e l'empatia di Diana Spencer l'hanno resa un'icona, tanto che dopo anni e anni dalla sua tragica dipartita, c'è chi la considera come l'unica e vera regina d'Inghilterra Diana non ha avuto una vita felice, sono stati pochi gli attimi di serenità e di quiete che ha vissuto, ed in larga misura, sono quelli che ha condiviso con i suoi due figli Ormai è noto che il suo rapporto con Charles fosse problematico e burrascoso, ma nonostante i dissidi e le tensioni familiari, Lady D non ha mai riversato la sua sofferenza sugli altri, dimostrando di avere un carattere estremamente forte e sincera premura verso il prossimo Con devozione e amore incondizionato ha cresciuto i suoi figli, divenendo un esempio di determinazione Kate Middleton, per molti sudditi rappresenta la degna erede di Diana, entrambe godono di un consenso altissimo Kate copia Lady D? La scelta della principessa.Kate Middleton non ha vissuto una giovinezza semplice La principessa del galle sta infatti affrontando le cure per il cancro, la diagnosi è avvenuta qualche mese fa ed ha cambiato per sempre la sua vita Proprio come Lady D ha preferito mostrarsi al pubblico serena e tranquilla, seppur sia chiaro e legittimo che serbi paura e preoccupazione per il suo stato di salute e, per i suoi figli Kate sta cercando, soprattutto per il benessere dei piccoli di palazzo, di non far trasparire la sua ansia per il futuro, concentrandosi sulla loro educazione La principessa intenta a fornire loro tutto ciò che è necessario per infondergli serenità, proprio come quella che hanno vissuto prima che la malattia colpisse la loro mamma Kate in questo momento della sua vita ha deciso di volgere lo sguardo alle bellissime abitudini con le quali la principessa Diana ha cresciuto i suoi due figli, William e Harry La Middleton sta insegnando ai piccoli le buone maniere, esortandoli a scrivere delle lettere di ringraziamento al prossimo, qualora ricevano delle buone azioni Un'abitudine praticata da Diana, la quale per lungo tempo ha sottolineato l'importanza di questa consuetudine Era solita infatti ricordare ai suoi due figli l'importanza del rispetto per gli altri Le buone maniere a tavola, le lettere di ringraziamento, le piccole cortesie vengono incolcate ai bambini in modo che diventino automatiche, ha dichiarato una fonte vicino alla Royal Family Nonostante le intenzioni della principessa c'è chi ha supposto che stia agendo soltanto al fine di ottenere consensi, copiando le mosse della compianta Lady Diana